Giorno 20 luglio 2019 sarà l'ultimo giorno in cui si potranno presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2019-2020, cioè per l'anno scolastico 2019-2020. Dopo questa scadenza gli uffici scolastici provinciali si attiveranno a controllare, a visionare tutte le richieste giunte per redigere le gradatorie provvisorie di utilizzazione e assegnazione provvisoria. I tempi di queste pubblicazioni vanno tra la fine del mese di luglio e la prima decada del mese di agosto, ovviamente dipende dal numero di istanze pervenute al singolo ufficio scolastico provinciale. Gli uffici scolastici provinciali che avranno meno domande pubblicheranno prima queste gradatorie e quelli che saranno invece invasi dalle domande, pensiamo provvedorati tipo Roma, tipo Napoli, ma anche Catania, Palermo, Reggio Calabria, avranno un lavoro maggiore e dunque pubblicheranno comunque entro prima del 15 agosto le gradatorie provvisorie. Poi ci saranno i tempi per il reclamo avverso al punteggio o alla mancanza di precedenze rispetto alle istanze presentate. Il tempi di reclamo sono 5 giorni dall'atto di notifica, cioè dall'atto di pubblicazione delle gradatorie nei siti ufficiali degli uffici scolastici provinciali. 5 giorni, dopodiché l'ufficio scolastico avrà 10 giorni per visionare tutti i ricorsi e pubblicare quindi dopo ferragosto le gradatorie definitive. Entro il 31 agosto chiaramente verranno fatte le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Prima le utilizzazioni, successivamente le assegnazioni provvisorie. Seguiteci ancora sul nostro canale YouTube e sul nostro sito www.technalescola.it perché vi aggiorneremo e faremo altri video sulla mobilità annuale. www.technalescola.it